GF VIP, il rifiuto di Oriana Marzoli, il gesto non è piaciuto ai fan di Nikita Pelizzon. I rapporti tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizzon al grande fratello VIP sono infuocati ormai da tempo. Ma c'è stato un gesto della modella venezuelana che non è affatto piaciuto ai fan. Quando la Marzoli ha visto i turni della radio, ha subito chiesto che il suo fosse cambiato a causa della presenza della coinquilina insieme a lei. Inutile dire che la sua brutta reazione ha provocato una levata di scudi dei telespettatori in favore della Pelizzon. Andiamo a vedere che cosa è successo nel dettaglio. Foto Credits, per gentile concessione dell'ufficio stampa and demolition Italy, Music, Mose from Bensound. Come leggi anche, il regalo di Antonella per la sua amica Nikita, il suo gesto speciale per la sua amica. Si poate-ti dau totul peste cap, ca poate fac doar lucruri care-mi plac, poate nu ma-mbrac la costum, poate nu-mi spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân, pe ce fac și ce spun, știi, nimic nu mai e la fel, pupilăria s-a maturizat sever, s-a lovit până acum de fel, de fel, de oameni, de păreri, anti pur de caracteri. WIUT COMUNI WIUT COMUNI WIUT COMUNI Grazie a tutti